Mastro Santi del Sere. Nel 2013 è stato riconfermato presidente dell'Unione Produzione CNA, provincia di Arezzo, e referente regionale del settore legno arredamento, alle cui cariche era stato nominato già nel 2009. E sempre nel 2013 è stato riconosciuto dalla Regione Toscana e Camera di Commercio maestro artigiano e con bottega scuola. Questa è la definizione che fa capire che in questa bottega, che si trova in un luogo bellissimo ad Anghiari, lei può esercitare anche l'attività di insegnante. Quindi un grande riconoscimento. Sì, sono stati il primo in Arezzo, è una bella soddisfazione. Non è facile perché ci vuole un buon curriculum, insomma è tanto lavoro che hai svolto nella bottega e attitudine a un certo tipo di comunicazione anche con i ragazzi che dovrebbero passare nella bottega. Ecco, però Santi del Sere lancia un grande allarme e noi rivolgiamo delle domande a questo proposito. L'Istituto d'Arte di Anghiari soffre la carenza di studenti e di iscritti. Tanto che bisogna cominciare a preoccuparsi? Penso proprio di sì, perché mi sembra che il secondo anno, ora non sono preciso perché mancano iscritti alla prima classe, quindi chiaramente finendo il percorso dei cinque anni, non essendoci pure le prime classi, l'Istituto d'Arte chiude, questo è inevitabile. Speriamo che non succeda, speriamo che anche questi appelli che vengono dalle varie parti, che dei ragazzi vengano a distruggere da Anghiari, sperando che anche le istituzioni si muovano a riguardo. Lei si è diplomato ed è maestro d'Arte proprio in quell'Istituto e ha fatto anche l'insegnante per un anno. Ecco, non poteva non lanciare questo appello, ma lei fa delle proposte reali per poter rilanciare questo settore? Io sì, l'ho fatta tutta, dalla scuola, dall'allievo fino a... mi manca di fare il bidello, se no. No, però ecco, sì, le proposte ci sono, le ho fatte anche perché venendo dal mondo artigiano capisco che ci sono delle necessità e da sfruttare insomma un istituto adatti in questo... da come tutte le cose che c'è all'interno importanti, di proporle anche per stranieri, per persone o tutte strutturate che hanno bisogno di avere dei ragazzi e delle persone che si mettono in gioco veramente nel campo del lavoro. Per esempio lei propone delle facilitazioni, degli incentivi ai giovani che vogliono avvicinarsi magari con una residenza costruita al fianco dell'Istituto oppure per esempio le docenze assegnate a dei grandi maestri del design internazionale. Questi sarebbero due chiavi della soluzione? Allora, quella dei design internazionali o degli insegnanti di fuori che vengono... è sicuro per me una mostra vincente perché insegnanti presi proprio da nostre parti chiaramente saranno anche delle persone in gamba, però avere un richiamo di persone che hanno un riconoscimento a livello internazionale potrebbe veramente far decollare l'Istituto d'Arte anche con delle persone che vengono apposta da fuori per essere formate. Una sua osservazione è quella che tentare di fare un Istituto d'Arte moderno potrebbe rappresentare uno slancio anche turistico per Anghiari. Il turismo è importante perché Anghiari, come in tutti i piccoli paesi, è un mordifuggi. Non è che non si riesce a tenere tante persone in tanti giorni in un paese. È difficile, quindi riuscire ad avere anche questa risorsa che poi alla fine di riuscire a portare questi ragazzi per un periodo nel paese può essere qualcosa che aiuta anche all'economia di Anghiari. Al momento le sembra che la situazione sia tale che le sue proposte verranno ascoltate o si sta lavorando bene in qualche direzione comunque positiva oppure c'è un po' di calma a piatta? No, io spero che qualcosa si muova perché veramente siamo all'ultimo, siamo ai portesassi si dice. Siamo veramente ormai, non diciamo alla disperazione ma poco ne manca. Quindi avere qualche progetto, questi qui non sono progetti, sono proposti. Se vengono accolte uno ci può studiare dietro, quindi le istituzioni si muovano e si muovano per farli conoscere queste cose, questi progetti e questi nuovi programmi, proposte che può portare avanti gli studi d'arte di Anghiari. Io penso che ci siano tutte le cose da mettere a posto e ci siano tutte le possibilità anche di farle conoscere. Ci vuole un po' di volontà anche da parte di persone, anche politici, che si vogliono, che si devono mettere in gioco perché questo paese ne ha bisogno. Insomma, questo giusto d'arte con tutti gli investimenti che è stato fatto fino ad adesso, francamente buttare via tutto mi sembra assurdo. Poi è l'unico in Italia sul restauro del mobile, quindi penso che sia fondamentale aiutare, trovargli una collocazione con un progetto anche diverso, non solamente con una formazione come adesso strutturata in maniera liceale, ma che abbia un progetto parallelo che possa sviluppare questi studi d'arte anche in campo internazionale.